La paura dello sparring è molto comune nello sport al combattimento perché le botte fanno male, ok? Ma questa non viene superata con la classica frase, devi crederci, vai avanti. Perché se c'è una paura e questa viene condizionata, senza diciamo decondizionarla, questa aumenta. Ti faccio un piccolo esempio, se sotto sotto c'è quella paura di prendere le botte, di farsi male, prima di tutto si va in apnea. Secondo, quando si scrivono i colpi si fa questo, non c'è la schivata diciamo semplice, no? Ma c'è una schivata e se ti arriva il colpo si fa qua, quindi c'è uno spreco di energia. Per questo, per imparare a sciogliere la paura bisogna lavorarci come? Rallentando. Perciò se tu hai paura non puoi velocizzare l'esecuzione. Perché? Quando tu lavori in velocità aumenti anche le onde del cervello, ok? Invece quando tu hai questa dinamica devi rallentare nello stesso modo che fa un pilota. Nel senso che tu immagina una curva, se tu hai paura di farla 200 all'ora, non puoi farla. Hai 200 all'ora continuamente fino a che superi la paura. Perché se ogni volta vai fuori strada o ti fai male, sbandi, non risolvi la situazione. Devi dare il tempo al cervello di metabolizzare questa dinamica, quindi rallentando, facendo la curva più piano e dopo andare in progressione. Perciò se hai paura delle botte e non sai come uscirne, lascia stare tutte le stronzate che vengono dette in giro, ma rallenta. Quindi impara a fare il movimento lento, ok? Ed è quello che io insegno nel mio nuovo videocorso, la mente del guerriero. Ci sono tutta una sfera di tecniche precise per imparare ad usare la mente e il corpo, superare le paure, capire il condizionamento e il decondizionamento. Perché sono fasi importanti per salire sul ring con una mente d'acciaio, senza più paure. Quindi evita la velocità, ma lavora sul rallentamento e vedrai che avrai ottimi risultati. Grazie.